Pochi giorni fa ha lasciato i comitati civici per formare il gruppo Azione all'interno del Consiglio Comunale e l'altro ieri c'è stato un terremoto nell'amministrazione. Lei continua a sostenere il sindaco? Assolutamente sì. Io da presidente dei comitati civici, che è un'associazione locale, ho riunito il gruppo e abbiamo deciso di sciogliere questa esperienza, anche perché è terminato il periodo del civismo orlandiano e abbiamo aderito tutti quanti al movimento di Carlo Calenda Azione, che ovviamente è collocato nell'ambito del centro-sinistra. Quindi a livello cittadino non cambia nulla per me, continuo a sostenere Leo Luca Orlando, sono stato eletto con Leo Luca Orlando e quindi per coerenza, fino a quando c'è Leo Luca Orlando sindaco, lo continueremo a sostenere. Riguardo il terremoto che è successo invece all'interno dei tre consiglieri comunali? Certo, questo è un qualcosa che ci mette sicuramente in allarme. Vediamo adesso l'evolversi della situazione. In questo momento atteniamoci a quello che leggiamo, cioè dell'estrenetà totale da parte dell'amministrazione, e quindi anche di Arcuri. Io stesso ho fatto di tutto per non averlo ingiunta, però ecco, allo stesso tempo devo dire che le motivazioni erano legate al fatto che volevo una motivazione politica, una compagine più giovane. Ecco, ma per quanto riguarda l'aspetto penale non ho dubbio che Emilio Arcuri non abbia niente a che vedere con questa situazione, anche perché altrimenti risulterebbe indagato, cosa che non è. Quindi completa fiducia. È chiaro che mi colpisce, sono veramente infastidito per chi fa politica da tanti anni, leggere le dichiarazioni di un altro dirigente, di Bartolomeo, che sostiene che ci siano altri tre consiglieri coinvolti bene. Queste spade di Damocle fanno malissimo a tutti, alla città, alla politica in generale. Quindi mi auguro che questo signore corra immediatamente, oggi stesso, io l'ho chiesto oggi a verbale in commissione, un atto forte, vada in procura a denunciare ciò che sa.